Ben trovati. L'introduzione della seconda parte del concerto L'Ist e le tre corone della lingua italiana, che sarà trasmesso sul canale YouTube di Amici Musica Cocito e di Anovara, focalizza oggi l'attenzione sulle tre composizioni per pianoforte solo dichiaratamente ispirate a tre sonetti di Francesco Petrarca. Tra il 1838 e il 1839, durante il suo viaggio in Toscana, L'Ist musicò per voce pianoforte il testo di tre sonetti di Petrarca, il numero 47, benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, il numero 104, pace non trovo e non ho da far guerra, e il numero 123, i vidi in terra angelici costumi. Nel corso degli anni L'Ist ne elaborò ulteriori versioni, giungendo alla versione per pianoforte solo che trovò una definitiva formulazione all'interno del secondo volume di Année de Pelerinage. Année de Pelerinage è il titolo di un'intera raccolta, costituita da tre volumi e da un appendice dedicato a Venezia e Napoli. Questi volumi si configurano come una sorta di diario di viaggio di quel Grand Tour compiuto da L'Ist tra il 1835 e il 1839 in cui egli volle tradurre in musica le emozioni che opere d'arte e paesaggi naturali suscitavano in lui. Si tratta di un pellegrinaggio di natura artistica per esprimere quell'unità tra le arti che costituisce una tra le principali aspirazioni del romanticismo. Non bisogna dimenticare inoltre che questo lungo viaggio coincise con la travolgente passione amorosa che legò L'Ist alla contessa Marie da Gould. Tornando a Petrarca e alla particolare situazione sentimentale di Franz L'Ist, i tre sonetti offrirono all'autore ungherese l'occasione per sperimentazioni formali, timbriche e armoniche di grande modernità, volte a rendere le più sottili sfumature del sentimento amoroso. I sonetti sembrano indicare un vero itinerario sentimentale. L'innamoramento, benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, il contrastante tormento amoroso, pace non trovo e non ho da far guerra, la contemplazione paradisiaca dell'armonia celeste che l'amore rende visibile in terra. I vidi in terra, angelici costumi.